bentornati su my football jersey questa che vedete è la prima maglia del cile per la stagione 2024 25 in edizione fan l'edizione fan è quella un po più comoda confortevole che costa meno pensata per i tifosi il nostro corso gratuito è il nostro corso gratuito la maglia è bella una maglia rossa diciamo così di un bel colore cangiante con queste rifiniture in blu e costo lo vedete qui sopra molto basso include anche le spese di spedizione che tra l'altro è anche molto veloce questa è arrivata in 19 giorni sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e mi raccomando iscrivetevi al canale per oggi è tutto alla prossima